Il post per Ciavarezza, il post per Imaier, il post per Imaier, il post per Imaier, il post per Imaier. Grazie. Sei un risonistico. Scusi. E' stata un po' la sindezina sulla torta di questo campionato. Sì, sì, importanti. Ci consentono di andare avanti, ci siamo arrivati benissimo. Abbiamo avuto l'ultima partita da grande. E oggi, anche oggi, abbiamo pensato di esserci. E credo che sia meritato, sia meritato perché non l'abbiamo fatta, perché oggi abbiamo fatto una grande partita. E andiamo a guardare. Ti aspetti una marcatura? Non so, però se queste cose succedono sui piazzi. Anche oggi, prima mi hanno chiesto comunque il terzo gol, è stato un po' campolesco, ma io credo che il gol sia dovuto perché in quell'occasione non volevo fare quello che c'erano. Non ho pensato a mettere la palla dentro per farlo, per fare con la mia compagna e di contare anche a me lo ditorio. E poi la parola è tornata. E' stata un po' tornata e l'ho fatto con lì. Io però giocherò, come sempre nella settimana, giocherò per il risultato di squadra. Questo ti fanno, noi ci siamo decisivi. Andiamo a giocare l'anno. Sì, effettivamente. Continuerò a giocare per il bene. A giocare. Prima del gol. È incostato quando potevi avanzare, forse fino a ricorda. E' accorto? No, anche lì c'era Sorrentino. Però non potevi avanzare. Come ho visto Sorrentino, ho cercato quella palla lì, perché poi c'era solo Spiglia, ma non l'ha messo accettato. Sì, io con la Guadirino ho giocato anche al suo. Già lo conosco. E' proprio bene anche con Lorenzo. Credo che ci sia molto spirito in Sacrifizio. Sì, ci sceglierò. C'è un po' giorni, poi ci proveremo. Ci sceglierò. Ci sceglierò, ci sceglierò. Ci sceglierò, ci sceglierò. Ci sceglierò, ci sceglierò. Ci sceglierò, ci sceglierò, ci sceglierò. Un passato, ma oggi ci dobbiamo passare per giocare una grande partita. E' una squadra razionata e fortissima. Ci sceglierò anche la prossima. Ci sceglierò, ci sceglierò, ci sceglierò. Ma c'era così.